E' nuovo, goloso, fa bene. E' yogurt. E lo yogurt Yomo Fittus. E' più buona la fragola o la banana? O il limone? Ma va là la pomoltina? Il limone? Come buono, anche se mi freddo. La mamma lo dà sempre volentieri, perché fa bene. Yogurt Yomo Fittus è garantito sempre senza coloranti, né conservanti, né aromatizzanti. Yogurt Yomo Fittus. Quando la golosità fa bene.